Come va? Come va ragazzi? Vi ritrovati? Un saluto a tutti da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube con tanti punti di vista, tanti pareri, com'è bello che sia in una community sana come la nostra mi piace definirla così, due regole, civiltà e rispetto e poi ognuno dice la propria mi raccomando commentate numerosissimi anche in questo video esprimendo il vostro punto di vista lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale personale che trovate qui sotto nel link in descrizione mi piacerebbe arrivare a 25.000 iscritti già oggi, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano o la terza, scegliete voi, scherzi a parte ragazzi vi aspetto numerosissimi anche lì dove faremo delle live a breve, magari stasera, chissà, boh vediamo, intanto iscrivetevi detto questo nel video di questa mattina vi ho parlato di quella che potrebbe essere l'ennesima rivoluzione con tagli, giocatori in discussione e dobbiamo un po' integrare perché nel frattempo è successo qualcosa intanto diciamo che oggi sarà ufficiale l'iscrizione del Milan alla Serie C, alla Lega Pro chiamatelo un po' come preferite e quindi ci sarà questo percorso di avvicinamento dei giovani alla prima squadra che produrrà non nell'immediato ma nel giro di qualche anno benefici sportivi anche economici al club, un po' come sul modello Juventus che vedete oggi raccoglie i frutti o tecnici, di giocatori validi o economici perché c'è dei giocatori che ha cresciuto che altrimenti non avrebbero avuto quel valore, healing mi riferisco a, beh oggi c'è Sule, poi Barrenecea Uisen, ci sono tanti giocatori cresciuti nell'Under 23 che oggi hanno un valore e ti ha permetto di arrivare magari anche a giocatori forti perché la Juve scommessa sta facendo un mercato mirato poi oggi parleremo di altri intrecci con la Juventus più o meno interessanti e quindi per Camarda ci sarà l'avvicinamento al calcio dei grandi vedremo se gli basterà un anno nell'Under 23 o se ne serviranno magari uno più un altro anno in Serie A media-bassa classifica prima di arrivare in prima squadra, questo ovviamente lo dirà il campo sperando che possa fare tutti gli step come si deve magari anche senza bruciare le tappe ma che faccia quello che deve fare perché a quell'età sappiamo il rischio di perdersi per tantissimi fattori purtroppo c'è, i casi del passato sono molteplici dunque oggi ufficiale e vedremo un po' anche che tipo di percorso dovremo fare proseguendo nel video ragazzi ho la macchinina e adesso vi spiego perché perché ho la macchinina e tra poco una novità molto importante di calciomercato che può aprire scenari diversi ho la macchinina perché allora su Balloture sembra ci sia l'interessamento del Watford in questi casi o è un interessamento vero o è una voce fatta circolare dal club Milan per stimolare attenzione possibile oppure dall'entourage per anche qui cercare di creare insomma un po' di movimento attorno al giocatore quantomeno a livello mediatico e magari poi nel pratico su Balloture noi abbiamo un anno di contratto quindi devi devi trovare una sistemazione altrimenti devi tenertelo ecco quindi ragazzi vediamo un po' vediamo un po' che cosa succede ecco perché la macchina perché lo porto io lo porto io là ma la macchina la tengo ancora perché perché anche qui vedi sopra o è vero o è verosimile o si cerca di anche qui pensateci la notizia che filtra è che ci sono primi sondaggi di club turchi per Orighi vuole essere il cielo Orighi è stato un'operazione disastrosa di Paolo Maldini e Frederic Massara io diamo a Cesare qualche decisione nel bene ma anche nel male operazione davvero disastrosa un parametro zero che vale meno di zero che è arrivato qui in ciabatte in infradito e ha fatto flanella dal primo giorno è andato in Inghilterra ha fatto male ora vi dicevo rimane o l'MLS oppure la Turchia oppure l'Arabia Saudita questi tre campionati qui e quindi speriamo davvero che questi club turchi non meglio specificati possano prendersi Orighi farci risparmiare un ingaggio che è pesante e io dopo aver portato eventualmente Ballo dove andrà porto anche in macchina Orighi in Turchia o dovunque andrà l'importante è liberarsene perché sono fardelli sono ingaggi soprattutto quello di Orighi non di Balloture è un ingaggio pesante se si riuscisse poi accedere a tagliare definitivamente i rapporti benvenga anche per questo sarebbe il suo terzo anno di contratto al Milan ed è un contratto ripeto pesante che credo non abbia venuto neanche più il decreto crescita perché lui è arrivato poi è uscito poi rientra quindi sarebbero un costo da 8-9 milioni di euro a stagione capite che con quei soldi tu ti paghi un ingaggio di Andrion Rabiot ecco col decreto crescita Rabiot vediamo un po' è importante tagliare ricavare soprattutto magari non ricavare ma non spendere cioè non avere costi rami secchi e costi inutili sui giocatori che non sono delle risorse poi volevo commentare rapidamente anche le parole di ieri di Ibra scusate di Conte di Conte su Ibra intanto io ieri quando lo vedevo parlare sognavo il backdrop non del Napoli ma con gli sponsor del Milan e mi sarei esaltato terribilmente ecco perché insomma ha fatto capire subito di che pasta è fatta ci vuole tempo ma io non ho pazienza decido io chi va via insomma uno tosto voglio le facce ink puntini puntini su Ibra dice nel Milan c'è un allenatore non un manager aveva detto Ibra e ha detto che non cercavano un manager cosa che io mi considero questo in qualche realtà può dare fastidio ma è qui una traduzione un po' più ridotta in ogni caso dice io sono un manager io voglio decidere da altre parti questa cosa poteva dar fastidio e quindi secondo me sarà avvelenato nei confronti del Milan e quando ci sarà Milan-Napoli Napoli-Milan non so che cosa che cosa farà per caricare la sua squadra ulteriormente attenzione a proposito di Under 23 dovrebbe esserci anche il figlio di Ibra nell'Under 23 sapete che una delle cause degli screzi tra quelli che erano due veri amici Abate e Ibra è stato il poco impiego del figlio Maximilian di Ibra promosso Bonera che avrà questo compito però non per meriti sportivi poi vedremo però dovrebbe esserci appunto anche Maximilian Ibraimovic che un po' più da raccomandato forse che da giocatore giovane validissimo non ho avuto relazioni particolarmente esaltanti ecco però ci sarà anche lui secondo me significativo del fatto che Ibra lo voglia a spingere su Ibra dice su Conte la situazione è questa insomma mi sarebbe piaciuto terribilmente ieri fantasticavo detto questo vedremo un po' come andrà sicuramente Mina si è preso un rischio fidando la panchina a Fonseca quando c'era lì Conte se Napoli ti arriva sopra ci fai una brutta 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 figura ma speriamo che Napoli e che tutte le altre ci finiscano sotto io avrei fatto carte false per Antonio Conte che era quello di cui aveva bisogno secondo me il nostro ambiente lui Conte ieri ha detto io cosa che aveva detto Stellini anche noi a QSVS io di solito ottengo il meglio migliori giocatori in quel momento alzi la mano chi ha pensato a Rafa Leao io vabbè torniamo a noi ecco questa situazione molto importante con un asse Milano Inghilterra Italia Inghilterra attenzione al Newcastle con cui un anno fa c'era stata forse di questi tempi io con la memoria delle date faccio molta fatica terribilmente fatica anzi sono proprio negato in pochi giorni c'era stato il blitz Sandro Tonali andato là ebbene attenzione perché nelle ultime ore negli ultimi giorni stanno parlando costantemente Milano Newcastle inizialmente il club inglese si è interessato a Tomori che sembrava un po' freddino sua destinazione a Newcastle con i mini anche però ha detto per Tomori vogliamo 50 milioni di euro cifra importante che forse ha spaventato un po' il club inglese nonostante abbia un potere economico molto importante attenzione però a quella che potrebbe essere una svolta significativa del mercato rosso nero perché da Tomori i dialoghi sono proseguiti e sono passati invece a Malik Ciao con il Newcastle che ha chiesto informazioni ha fatto sondaggio più che esplorativo qualcosa di più per Malik Ciao Malik Ciao che ricordiamo di anni ne ha 22 ne farà 23 d'agosto al 1-94 e al contatto in scadenza con il Milano nel 2027 rappresentato da Gordon Stipsch dalla Unique Sports Group lo stesso agente tra l'altro anche di Cialanoglu 21 presenza un assist quest'anno giocatore che ha tre presenze con la Germania e poi si è un po' fermato perché quest'anno il Milan ha fatto davvero molto molto male in una stagione comunque da 30 presenze però ha fatto davvero molto male secondo me non valorizzato dal sistema di gioco è costretto spesso a difendere campo aperto contro il giocatore più veloce vedi Turan vedi Ken i problemi fisici è stato davvero un disastro che cosa succede che il Milan Ciao comunque non lo dichiara incedibile e si può aprire un discorso interessante o meno dipende dai punti di vista perché poi vi dico anche di chi ha parlato il Milan con il club inglese perché può essere più o meno interessante perché se tu fai partire Ciao pagato pochissimo ecco monca data anche questa quella di Malik Ciao una monca data che non citavo ieri se tu fai partire Ciao fai una plusvalenza importante credo che il Milan lo valuti almeno come richiesta 35 milioni di euro poi magari ne prendi 30 e fai plusvalenza quasi totale e a quel punto hai soldi per provare a prendere Calafiori in Napoli per Buongiorno ho offerto 30 più 5 di bonus magari puoi fare il tentativo tu per Buongiorno insomma lo switch di cui parlavamo nei giorni scorsi cioè Tomori con un giocatore alla Buongiorno o alla Calafiori è possibile a questo punto più con Ciao che con Tomori detto questo io non mi priverei di Ciao perché per me a 22 anni quasi 23 può ancora diventare un ottimo giocatore e ha delle caratteristiche molto interessanti l'abbiamo vista nei primi sei mesi nei secondi sei mesi in cui ha giocato nel Milan perché fino a gennaio non aveva mai giocato però se ragioniamo se facevi partire Tomori poi vedo qualcuno mi scrive tu non vedi le partite come fai a dire che Tomori è il miglior difensore del Milan questo tu non vedi le partite evitiamolo anche magari no cioè ognuno dica la propria senza fare il fenomeno perché nessuno ha la verità in tasca nemmeno io ovviamente come io rispetto al parere di tutti tutti devono fare lo stesso anche nei confronti degli altri detto questo per me per un mix di esperienza qualità secondo me Tomori è il miglior difensore del Milan anche se quest'anno ha fatto anche lui male cioè per me Tomori è superiore a Ciao superiore a Gabbia è superiore anche a Calulu e per caratteristiche se tu pensi di fare lo switch con un buongiorno un calafiori piede mancino secondo me è molto più adatto avere Tomori quello aggressivo che può giocare anche alto con calafiori o buongiorno Ciao più buongiorno o Ciao più calafiori non è una coppia ben assortita invece la coppia perfetta sarebbe Tomori con uno di questi due non farei mai sacrificio Malik Ciao per arrivare a la Croa piuttosto che queste categorie qui Kivior eccetera eccetera non farei quel tipo di sacrificio lo farei per arrivare a buongiorno o calafiori questo sì come mi auguro sia nei desideri nei piani del Milan che Citt Zlatan Ibrahimovic vuole anche giocatori italiani potrebbe essere la svolta se vogliamo anche clamorosa del mercato estivo del Milan che magari non cede i big cede Malik Ciao per arrivare a il grande obiettivo in difesa alla Calafiori o alla Buongiorno ripeto il Torino chiede 35 per Buongiorno forse più 5 di bonus se tu incassi anche 30 da Ciao puoi fare questo switch oppure vai su Calafiori che secondo me anche lì a 30 te lo porti a casa la Juve a fare 25 magari 30 più bonus te lo porti a casa siamo più o meno lì su quella che può essere una valutazione magari anche su Ciao ti porti 35 milioni perché in Premier pagano di più però il club inglese ne ho chiesto la fretta di vendere entro fine mese entro il 30 giugno quindi a 4 giorni il Milan nei dialoghi ha chiesto trippie 33 anni 34 settembre terzino destro alto 1 e 73 scadenza 2025 quindi soltanto un anno di contratto 28 presenza un gol e 10 assist quest'anno in Premier League lo scorso anno un gol e 7 assist in Premier il club inglese al momento ha detto no grazie però vediamo perché hanno fretta anche loro di vendere un giocatore di grande esperienza ottimo uomo assist che magari potrebbe prendere il posto di Florenzi anche per esperienza magari Florenzi va via per i discorsi con Fonseca e tu metti dentro trippie ti rifai la faccia destra magari inserendo anche il giovane Tiago Santos a quel punto non è emerso il Royale vediamo che cosa succede ditemi di tutto di questa situazione under 23 del figlio di Ibra di Balloture di Orighi delle parole di Conte di ciao sacrificabile sì oppure no per me è solo per arrivare a Calafiori o buongiorno altrimenti me lo tengo commentate numerosi su trippie ripeto al momento pista tiepida un abbraccio a tutti vi rimando al video di questa mattina iscrivetevi qui numerosi iscrivetevi anche al mio canale personale chi non si iscrivete fa la seconda o la terza squadra di Milano un abbraccio